segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te michele che successo in sardegna il mio amico giorgio armani dice che essendo donna il nostro presidente del consiglio ha due attributi temo che questa volta per la fretta di metterli sul tavolo come si dice vi abbia sfragassati con una martellata perché perché